Buongiorno a tutti, oggi vedremo la forma dei 18 movimenti del Tai Chi Chuan stile Chen. Questa forma è stata codificata dal mio Shifu, il Gran Maestro Chen Chen Lei. Il Gran Maestro ha estrapolato dalla forma antica della famiglia, la Lao Jailu, appunto 18 movimenti che probabilmente sono fra i più popolari dello stile. Si tratta di una forma semplice, semplificata, una forma breve, ma parecchio utile per chi si approccia per la prima volta alla pratica di quest'arte marziale. Io la eseguirò prima frontalmente, in modo tale che il praticante a casa possa osservare i dettagli relativi alle figure anteriori, in particolare alle mani, e poi la eseguirò invece posteriormente dando la schiena alla videocamera, in maniera tale che il praticante a casa possa seguire con facilità il video e contemporaneamente eseguire la forma. Bene, quindi vi auguro buon lavoro e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.